C'è un vecchio progetto che risale a 40 anni fa, ma che in questi anni poi più volte è riapparso ovviamente all'attenzione. Io con una mozione ho richiamato l'attenzione del Consiglio Comunale. Sul collegamento Mare-Carso tramite Funivia, il consigliere comunale Roberto De Gioia aveva presentato una mozione nell'autunno scorso, ma si trattava del vecchio progetto di cui si parla da circa 40 anni, che prevedeva l'arrivo al Santuario Mariano di Montegrisa. L'uscita del sindaco sul progetto Ovovia, che fa terminare il tragitto a Opicina, non vede il consigliere totalmente contrario, ma quantomeno perplesso. Sul progetto Barcola-Montegrisa, anche il consigliere Michele Babuder, che è presidente della Commissione, ha convenuto che portando una teleferica, una Ovovia, dal Portovecchio a Barcola, si snelliva il traffico, e si portavano anche i cittadini alla balneazione e poi si puntava a Montegrisa. E dove, badate bene, a Montegrisa, a parte la bellezza del Santuario, c'è un mega parcheggio e poi c'è una balconata, da cui ci guarda uno spettacolo eccezionale, ma soprattutto siamo a pochi metri dall'uscita della superstrada. Quindi l'obiettivo qual è? Era quello di catalizzare la gran parte dei turisti, che sono migliaia e migliaia, che passano sulla superstrada, portarli sulla balconata e poi invitarli a scendere a Barcola e quindi anche in Portovecchio, oggi che il Portovecchio ha questo sviluppo. Allora, vorremmo capire, io non sono contrario alle nuove idee, però noi vorremmo capire la differenza. Tante le criticità rilevate da De Gioia nel nuovo progetto. Perché adesso portare una nuova via, a Opicina, dove ci arriva già un tram, dove ci arrivano gli autobus, poi in campo romano, dove non c'è un parcheggio, dove non c'è una viabilità, insomma ci sono tutte le situazioni che noi ovviamente vorremmo capire e fa specie il fatto che il sindaco, che ci ha sempre illustrato, devo dire onestamente, in Consiglio Comunale, tutte le caratteristiche del Portovecchio, tutte le novità, non abbia mai menzionato questa nuova proposta.